bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono shooter e oggi ragazzi dai rosita dai vedi che ci sei anche te dobbiamo dare ragazze una cosa importantissima non te lo ricordi dai non l'insultare ragazzi oggi dobbiamo ringraziare la nostra amica adriana stansell che ci ha appena detto che sono usciti due nuovi promo code per what the hand e quindi ragazzi non potevo non proporveli ovviamente tutto questo video è anche da parte della pami che adesso non può essere qua ma mi raccomando ve li stiamo dando in due ragazzi ve lo ricordiamo sempre andare in alto a cliccare dove c'è il numero del vostro livello in alto a sinistra si apre la schermata andiamo nel tasto verde con scritto codice promozionale e andiamo subito a inserire il primo codice che è head age e ad si scrive così c'è una cosa che non dovrebbe esserci ok e ad a c h e andiamo a vederlo andiamo a vederlo subito così buia arrivano i cinque chiappa colpo ragazzi incredibile bellissima questa carta dei sede robots che fa veramente veramente male se portata a livelli alti ce n'è un altro io ho detto che c'era un altro ma io vi do i codici ragazzi ma voi dovete lasciare subito 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 adesso un bel like mi raccomando non vi costa niente lasciate un bel like a questo video e se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale forza forza che le robe belle le trovate solo qui ragazzi andiamo subito a vedere il secondo che è invece dobbiamo mettere codice promozionale ciccio it 89 andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo a vedere arrivano 10 chiappa elettrica e 50 gemmozze ragazzi molto molto interessante anche questo codice oggi ragazzi il pieno di truppe e il pieno di gemme beh ragazzi io direi che per oggi è veramente tutto grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo presto ciao ciao